Ecco, signor Lisca, stanotte ci ha lasciato Adele Ferrari, chi meglio di lei può, e sua moglie, potete esprimere un ricordo di Adele. Dunque, Adele Ferrari, per la nostra zona, per il Magentino e così, è stato un po' il simbolo della musica lirica e della musica in generale, lirica in particolare. Quindi ha fatto tanto, ha organizzato tanti concerti insieme, abbiamo organizzato, io per conto mio, lei per conto suo, ma comunque ci siamo trovati tante volte, spesso insieme, anche da tanto tempo, insomma, che abbiamo fatto tante cose insieme. Fino a quando lei ha potuto, fino a circa un anno fa, quando ha cominciato a avere delle traversie, cominciare a tirare un po' per gli ospedali, perché ha avuto una caduta in casa e così, e dopo, fino a quando, insomma, le sue condizioni fisiche erano tale, per cui si è reso necessario il ricovero in RSA. Malgrado fosse in RSA, ogni tanto l'andavamo a portare fuori, diciamo, con sua figlia, ci organizzavamo con sua figlia e la facciavamo uscire. Partecipava ai concerti che organizzavo io, anche l'ultima BOEM che abbiamo fatto in terza struttura, l'abbiamo fatta venire lì, con l'aiuto di quei mezzi lì, della Croce Azzurra, di quelle associazioni lì, di volontariato, che hanno i mezzi apposta per poterla portare in carrozzina e così, e veniva, veniva, anzi sarebbe dovuta venire anche al nostro Perelisa, che ci sarà, ci sarebbe stata, ci sarebbe stata, eravamo già d'accordo con l'RSA che avrebbero provveduto a fare il trasporto e tutto quanto. E certo, gli amici della musica e della lirica con delle Ferrari perdono molto, insomma. Era proprio una persona con la quale si organizzavano tante cose, poi lei si interessava anche per portare la gente alla scala, organizzava anche la gente per la scala, cioè era una persona di una cultura superiore, ecco, era una persona di cultura superiore. Io le facevo presentare anche le opere, quando facevamo le opere, le introduzioni alle opere che facevo e così me le faceva lei, al teatro lirico e così no, abbiamo collaborato per tanto tempo e per tanti anni. E abbiamo, anche nelle case di riposo, anche lì alla San Marco, dove il caso, il destino ha voluto che andasse lì alla San Marco, no, ma io ricordo vent'anni fa, quando la San Marco era appena stata costruita, e così facevamo con la delle Ferrari, organizzavamo i concerti per gli anziani, lì all'RSA San Marco. E quindi, sì, è stata una perdita, cioè, vabbè, non si è mai pronti o no, per dire aveva già la sua bell'età, però era una persona molto energica e anche recentemente, la settimana scorsa, siamo andati a trovarla, io e Graziella andavamo spesso, io e lei, e anche con amici a trovarla. Allora, lei era contenta che l'andavamo a trovare, ma era lucidissima, anche recentemente, era molto lucida, proprio, era bello anche parlare con lei, perché l'abbiamo portato il libro di Emilio Colombo, che abbiamo, nella serata abbiamo acquistato il libro di Emilio Colombo, l'abbiamo portato lei, dei Giordani, perché lei si sforzava, faceva fatica, ma si sforzava ancora per leggere quelle cose lì. E adesso, cioè, a dire la verità, fino all'altro giorno dovevamo uscire a mangiare la pizza con la figlia, perché è andata a prendere sabato sera, poi noi non potevamo, perché non ricordo più, avevamo un impegno, con degli amici avevamo un impegno, se no saremmo dovuti uscire con lei sabato sera, mangiare la pizza in Piazza Marcallo, e così stava bene, stava come stava, era stazionaria, era lucida, era un bel, improvvisamente non si era aspettava nessuno, parlando con la figlia oggi mi diceva che lei era in camera con una persona che era in condizioni precarie, molto precarie, e passando i medici a fare appunto una visita alla persona che aveva in camera con lei, che era in condizioni molto precarie, se ne sono accorti che è morta sta roba, è morta lei. Ne sono. Ecco, ne sono è morta lei, ce ne sono accorti, hanno avvisato subito il figlio che è in Toscana, e la figlia invece qui a Milano, e la quale figlia ci ha chiamato per poter dare una mano, perché non sapeva rivolgersi, siamo gli amici più, diciamo che più hanno frequentato sua mamma, e allora abbiamo cominciato a svolgere tutte le pratiche burocratiche, gli abbiamo indicato, ha chiesto consiglio dove fare l'esequio di funerali. Ecco, dove e quando saranno i funerali. I funerali sono mercoledì alle 11 in San Martino. In Basilica. In Basilica. In Basilica. Cioè, abbiamo, l'abbiamo consigliato, cioè perché ha detto dove mi consigliate, e ho detto, la mamma era molto conosciuta a Magenta, anche a Marcallo, perché era già un 15 anni che abitava a Marcallo, però era molto 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 conosciuta a Magenta, e allora abbiamo pensato che forse un omaggio a Magenta sarebbe stata la cosa migliore. Va bene, grazie. Ecco, prego.